Uomini e donne, Alessia Spagnolo dopo essere stata eliminata Luca D'Affre, persona molto costruita, ecco chi sceglierà. Ad è stato stupore la decisione di Luca D'Affre di eliminare Alessia Spagnolo, la corteggiatrice 27enne già mamma della piccola Chloe che aveva iniziato a conoscere ancora prima della sua partecipazione a Uomini e Donne. Sembrerebbe infatti che l'agente dell'ex aspirante Miss Italia avesse contattato l'agente di Luca. Gesto che non è affatto piaciuto al tronista. Dopo aver lasciato il dating show di Maria De Filippi, Alessia Spagnolo ha rilasciato un'intervista a Lollo Magazine. Sulle pagine del portale la donna si è espressa in merito all'ex naufrago della scorsa edizione dell'Isola dei Famosi. Nel corso della chiacchierata, l'ex corteggiatrice ha parlato anche della possibile scelta di Nicole Santinelli. Alessia ha detto la sua anche in merito a quanto accaduto in questi giorni negli studi di Uomini e Donne, ovvero l'Armando Incarnato Gate. Grazie. 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 Grazie.